Allora, riprendiamo, facendo un altro paio di esercizi che ci permettono sempre di giocare su questi cicli 4-1 combinati, dove questo esercizio ci chiede di, perché non ci stava tutto, scrivere un programma che acquisisce la tastiera un numero intero positivo n, acquisisce la tastiera n frasi, una per riga, composte di più parole, frasi, quindi normalmente, per ciascuna frase identifichi i nomi propri in essa presenti. Quindi c'è una frase che è, oggi Piero è andato a pescare, lui deve capire che in mezzo a questa frase c'è la parola Piero, che è un nome proprio, ovviamente non ha tutta la conoscenza dei nomi propri, ma si assume che un nome proprio abbia la prima lettera maiuscola e le altre minuscole. Poi ci sono due varianti di esercizio, quello in cui tu stampi solamente il primo nome proprio che hai incontrato, oppure l'altra variante in cui gli stampi tutti i nomi propri, se ce ne fosse più di uno, quindi oggi Piero è andato a pescare con Antonio, devi stampare sia Piero che Antonio. Allora questo è un esercizio complessivo, che è una parte, se vogliamo, facile, banale, ripeti n volte una certa roba, leggi delle stringhe, leggi le n volte, e poi la parte un pochino più complicata da pensare, che è questa, cioè data una frase trova i nomi propri, compresi in quella frase lì. Allora io partirei da questo, perché una volta che abbiamo un pezzo di codice che fa questo lavoro, è facile poi mettere dentro un ciclo che lo fa ripetere più volte. Giusto? Allora, proviamo quindi a darci un sottoproblema, che è quello di dire, data una stringa contenente a una frase, cerchiamo delle parole, una, diciamo una, poi non so se le troviamo una o tutte, vediamo un po', man mano che si doppiamo, una parola maiuscola, una parola, un nome proprio, secondo le regole di prima, del tipo X maiuscolo seguito da tante minuscole. Conte, quindi immaginiamo proprio che sia la frase, quella che abbiamo detto prima, oggi Piero è andato a pesca, con Antonio. E noi dobbiamo stampare in una variante solo Piero e in un'altra variante Piero e Antonio. Avete visto che la O di oggi l'ho messa in minuscola, per non confonderci, no? Noi mettiamo la lettera maiuscola ai tutti i nomi propri, ma anche all'iniziale di frase, e questo non si può distinguere, no? Quindi per ora, diciamo così, l'iniziale di frase la teniamo a minuscola per facilità. Altrimenti non si potrebbe sapere se la prima parola è maiuscola perché è all'inizio della frase o perché rappresenta proprio il nome proprio. Allora, trovare i nomi propri, o meglio, le lettere maiuscole è relativamente facile. Non ho nessun metodo che ti dica find le maiuscole, no? Non c'è. Ma ce lo possiamo fare, nel senso che cosa faremo? Andremo carattere per carattere a vedere se quella lettera è una lettera maiuscola o no. Giusto? Se vado avanti e non trovo una lettera maiuscola, chi se frega, ignoro tutto ciò che trovo. Quando trovo una lettera maiuscola, allora potrebbe essere un nome proprio. E poi cerchiamo di chiederci in quali condizioni sia effettivamente un nome proprio e dove finisce poi quel nome. Ok? Quindi, diciamo così, il primo passo che mi sembra obbligato è troviamo le lettere maiuscole. Troviamo le lettere maiuscole nella stringa. Quindi dovrò iterare sulla stringa, conviene secondo me qua in questo caso, la domanda che mi faccio è, devo iterare sull'indice o sul contenuto? Beh, secondo me sull'indice perché il contenuto può essere ripetuto. Cioè se avessi due volte la P maiuscola magari in posti diversi e mi dà fastidio non poterlo distinguere. E quindi, for I in range length, che è così mi va a prendere tutti gli indici della stringa. Frase di I sarà il singolo carattere, la prima volta è la O di oggi, la seconda volta è la G di oggi, la terza volta è la seconda G di oggi e così via, la maggior parte di questi caratteri non mi interessano per nulla, tranne quelli che sono maiuscoli. E allora noi abbiamo un ISAPER che ci dice proprio questo. Frase di ISAPER è falso sul primo carattere, falso sul secondo carattere, falso sul terzo carattere, sarà sempre falso fino a quando non arriva la P di Piero. Allora diventerà vero. Quindi posso dire che se questo carattere è ISAPER, allora posso stampare quello che abbiamo imparato a fare prima, no? Stampiamo il carattere e la sua posizione, così vediamo cosa ha trovato. Facciamoci prima... Abbiamo scritto già quattro righe di codice, è meglio testarle. Quindi lui mi ha stampato P5 A34, vuol dire che ha trovato la lettera P maiuscola in posizione 5 ed effetti è il sesto carattere, quattro di oggi in uno spazio fanno 5 e la P è la sesta, quindi l'indice di 5, e A è in posizione 34, mi fido perché non lo voglio di contare. Ok, quindi ho trovato delle posizioni in cui se questa IF è vera sono possibili inizi di parola. Quindi questo è un possibile inizio di nome maiuscola. perché dico possibile? Eh, perché se io avessi A spazio B spazio C non sono tre nomi maiuscoli, di nomi propri, sono lettere isolate. infatti la definizione dell'esercizio diceva ha la prima lettera maiuscola e le altre minuscole. Quindi vuol dire che le altre ci devono essere, devo avere almeno due lettere. Così come se ho ABC, o per assurdo fosse anche Piero, l'ho scritto così, non è un nome maiuscolo. Giusto? Non è il nome proprio, scusate. Il testo mi dice che la prima lettera deve essere maiuscola, ok, ma le altre devono essere minuscole. Quindi questo non è. Poi vabbè, poi ci sono altre cose anche più fantasiose, come questa. C'è una lettera maiuscola ma il poverino non c'entra niente, no? Non è l'inizio di una parola, semplicemente che si è saltato sulla fine. Quindi, cos'è che mi fa dire oltre al fatto che devo essere su una maiuscola e da qua non ci piove, quali condizioni in più mi servono per poter dire che sono dentro a un nome proprio? Lui dice che il carattere precedente era uno spazio. Lui dice che il carattere dopo deve essere una lettera. Oltre a quello che dice lui. Il carattere prima deve essere uno spazio per forza o potrebbe anche essere un simbolo di punteggiatura o un... disse aperte le virgolette Piero Il carattere prima non deve essere una lettera o un numero? Il carattere prima non deve essere una lettera o un numero. Uno spazio o una punteggiatura. E poi il carattere che punteggiatura è su un spazio o un numero? Su quello non lo ripeto perché non sono d'accordo. Allora stiamo analizzando delle condizioni sul carattere precedente e sul carattere successivo. Già attenzione sul carattere precedente o sui caratteri precedenti? E sul carattere successivo o sui caratteri successivi? Non lo sappiamo. A istinto mi sembra di dire che siamo tutti concentrati su il carattere precedente. Cioè questa lettera dice deve essere la lettera iniziale. Allora presso un iniziale di parola non può venire dopo un'altra lettera se no non sarebbe iniziale. D'accordo. Cosa può venire prima di una lettera iniziale? Mi sembra ragionevole dire che può venire uno spazio oppure una un carattere di punteggiatura. Di solito non bisognerebbe se fai virgola fai virgola spazio però se hai un'aperte virgolette invece potresti non avere lo spazio. Oppure i trattini di sospensione per fare gli incisi eccetera. Dimmi. Esatto. Questo è un caso particolare in cui lui dice io se inizio la parola la frase con una lettera maiuscola quindi un nome proprio non ho il problema qual è? Che non ho un carattere precedente. E quindi la regola diventa più complicata. Quindi vuol dire che o non ho un carattere precedente dato sempre che la mia lettera è maiuscola o è la prima della stringa oppure se non è la prima la precedente non è una lettera né un numero. Ce la sentiamo di scriverlo? Quindi innanzitutto devo vedere se o è la prima come faccio a sapere se la lettera è prima che condizioni scrivo? i uguale zero i è l'indice ho preso una lettera che è frase di se i vale zero e frase di è maiuscola vuol dire che questa stringa come prima lettera è una lettera maiuscola quindi se è uguale a zero e la lettera maiuscola di sicuro non ho problemi per la lettera precedente perché non c'è poi l'altro pezzo di condizione è frase di i meno uno il carattere prima è uno spazio abbiamo detto e l'altro che il carattere prima è una punteggiatura posso ragionare dicendo cerco i caratteri che non mi piacciono lettere o numeri oppure cerco i caratteri che mi piacciono che accetterei cioè spazi e punteggiature queste funzioni sono tutte funzioni che abbiamo giocato già prima con le stringhe adesso questi sono gli elementi gli ingredienti come li mettiamo insieme in un'unica condizione? ci vogliono degli end e degli or per metterli insieme allora questa condizione mi deve dare vero se posso andare avanti se ho passato il primo controllo della lettera precedente e quindi andrò a vedere le lettere successive mi deve dare falso se invece non va bene allora visto che ho messo gli space e gli spunt sono caratteri buoni se trovo uno spazio o se trovo una punteggiatura va bene quindi o uno o l'altro va bene poi fatemi mettere questo tra parentesi quindi noi abbiamo due condizioni qua che dicono carattere iniziale oppure mi dicono il precedente mi piace come unisco queste due condizioni? and or or perché se è la prima lettera va bene se è preceduto da uno spazio va bene una delle due mi va bene non è necessario che siano contemporanee anzi è fondamentale che questo sia un or perché altrimenti questo i meno uno sbarella cioè frase di i meno uno io lo posso scrivere solo se è diverso da zero questa condizione qua ha senso solamente se i è diverso da zero altrimenti purtroppo python non dà errori perché l'indice meno uno non è un errore come dovrebbe essere secondo me per il sani di mente ma in realtà va a prendere l'ultimo carattere quindi quando noi pensiamo di andare a controllare il carattere precedente invece l'altro stiamo andando a controllare l'ultimo della stringa è come se la stringa fosse chiusa in anello carattere prima del primo è l'ultimo dimmi perché ho sbagliato meno uno il carattere precedente allora dicevo questo i uguale zero or è fondamentale perché per le regole di valutazione delle espressioni logiche basate sul cortocircuito non appena lui si accorge che una certa condizione è vera smette di guardare il resto quindi se poi c'è un or e se questo primo pezzo fosse vero lui sa già che l'intera if è vera e non ha neanche bisogno di guardare questo quindi nel caso in cui i sia uguale zero rende vera questa condizione questa parte di condizione non guarda questo che tra l'altro conterrebbe un errore ci fosse una divisione per i una divisione per zero non lo farebbe neppure non lo fa non mi serve farla sa già qual è il risultato e quindi non va a vedere l'altro pezzo se invece i è diverso da zero questo pezzettino qui è falso e quindi per sapere se la if complessivamente è valida devi andare a vedere il resto falso or qualcosa beh devo andare a vedere quello qualcosa invece vero or boh mi fermo lì se è vero or qualcosa sarà sempre vero il risultato non devo andare a guardarlo non lo vado a guardare quindi in questo caso mi sto anche proteggendo rispetto a un valore errato di i di i meno uno anzi che mi darebbe una valutazione sbagliata ok quindi in questo caso so che la lettera maiuscola non è preceduta da altre lettere o numeri che la renderebbero non una valida inizio di parola dimmi is punct con la c scritto giusto così c'è non c'è mi ricordo male io guarda mi ricordo male perché poi tra un può darsi che non ci sia vabbè qui cominciamo a perderci andiamo alla fonte pint.org documentazione library reference standard library qui la verità la trovate non è facile da trovare ma str capitale scherzo center account and coding suite is alfa eccolo qua alfa numerico alfabetico asci decimale digit identifier lower numeric printable space title non c'è ci sta avete ragione non c'è pensavo che ci fosse mi pare che forse in una libreria c c'è lo fa lo stesso noi dobbiamo trovare no no c'è un altro modo più semplice nel senso che noi abbiamo c'è una costante che si chiama str.puntuation no str.punt ci arrivo allora niente abbiamo due modi diversi di farlo purtroppo quello che speravo ci fosse non c'è ricordavo male non ci perdiamo d'animo uno è dire noi vogliamo un'espressione che mi dica se il carattere prima del mio è un carattere di punteggiatura vabbè in aperte virgolette sui punti virgola punto punto virgola punto esclamativo punto interrogativo eccetera eccetera no questo fa la stessa cosa di un ipotetico medico metto da ispunt che non esiste quello che ricordo ma non ricordo come si chiama esiste una costante sempre nel libro standard che str.qualcosa che è già una stringa con tutti i caratteri di punteggiatura dentro puntuation perché non mi è venuta str ah aspetta string forse esatto nel modulo string non str quindi non è predefinita esiste una costante che si chiama string punto puntuation che contiene già tutti questi oggetti qua quindi anziché le cose tra virgolette potrei scrivere string punto puntuation in sempre con l'in lì sopra perché ho venuto una x qua quindi ovviamente scrivendo string punto puntuation verifichiamo che lui abbia importato string sì c'era un'altra libreria ispunt vabbè qui scusate questa roba qua non c'entra vediamo solo che non mi dia errore ok ok quindi un metodo che non c'era mi arrange e me lo ottengo in un altro modo l'altra alternativa se non avessi trovato un modo comodo per trovare la via di aprire le virgolette e scrivere le cose dentro funziona sempre l'altro modo potrebbe essere quello di dire vabbè qui è un casino però mi ricordo mi ricordo bene che ci sono sicuramente spazio di numeri addirittura c'è il metodo is al num oppure is alfa is num e is numeric allora posso usare quelli in quel caso cosa avrei scritto cioè io sto dicendo un altro modo di fare la stessa cosa non è di usare is space ma di usare questa qui is alfa e poi la stessa cosa con is digit o is numeric che sono leggermente diverse e in questo caso qui ho la condizione è inversa sto dicendo quali caratteri non voglio e quindi avrei dovuto mettere una cosa di questo genere un noto davanti se il primo carattere è uguale a zero va bene continua a valere lo stesso aggiornamento oppure il carattere precedente non è sbagliato e quella parente di tonda mi dice cos'è un carattere sbagliato un carattere sbagliato è uno spazio è una lettera un numero dimmi intendi l'ip1 sul ip1 non abbiamo ancora detto niente sì lì è un gran casino ci sarà un casino maggiore adesso ci sono guardato lì meno uno quindi questi due modi diversi dietro nella stessa cosa il terzo modo si può riscrivere questa stessa cosa portando dentro il not cioè avere if not oppure dire not frase di is alfa and not frase di is digit qui questa è un'applicazione del termine di De Morgan che dice quando io ho il not di un or diventa l'end dei not e quando un not di un end diventa il not degli end perché ho scritto for che ho scritto not sto dicendo il carattere precedente non è alfabetico e non è neanche un numero allora va bene mi piace non è della famiglia uno che non mi piace e contemporaneamente non è nella famiglia due che non mi piace e quindi non è nessuno di quelli che non mi piacciono quindi prima mettevo insieme tutti quelli che non mi piacevano e dicevo no non sei di quelli qui vado a vedere le singole famiglie e mi accerto che non appartengano a nessuna di queste famiglie quindi deve contemporaneamente non appartenere a tutte si contorce un po' la logica quando uno mescola land col not eccetera su espressioni più complicate no? l'importante è fare passo per volta sono tutte sono tutte forme assolutamente equivalenti di scrivere la stessa cosa ok commentiamo quindi qui sappiamo che arrivati qua con tanta fatica che la lettera maiuscola che abbiamo trovato non è preceduta dalla lettera lettera o numeri quindi è un buon candidato per essere inizio di parola adesso guardiamo a destra cosa avviene dopo quindi abbiamo spazio P maiuscola poi cosa avviene dopo cosa deve venire cosa accettiamo che venga beh di sicuro il carattere dopo dovrà essere assolutamente una lettera minuscola carattere i più uno deve essere una lettera maiuscola dopodichè per fortuna non c'è più il docente di matematica che mi dice senti ma come fai a dirmi se è maiuscola se non sai che esiste è vero la lettera successiva deve esistere cioè la mia lettera maiuscola non può essere l'ultima della stringa e quando esiste deve essere minuscola e poi il giochino che abbiamo fatto con lì uguale a zero prima di parlare della lettera precedente devo essere sicuro che esista di non essere sulla prima quindi stiamo dicendo che allora noi sappiamo che abbiamo spazio poi una lettera maiuscola e poi la lettera successiva deve esistere e deve essere una lettera minuscola e mi basta questo mi può forse bastare questo per dire che questo è un nome proprio non mi basta per dire quale sia il nome proprio può essere Paolo può essere qualcos'altro quindi per sapere qual è il nome proprio dimmi dipende quando sei cattivo lui dice non mi basta neanche per dire che è un nome proprio allora quello che stavo per dire io è che devo andare avanti e continuare a vedere che ci siano delle lettere minuscole ok dopo di che se trovo uno spazio sono tranquillo perché quella è la fine del mio nome se trovo una virgola sono tranquillo quella è la fine del mio nome quindi diciamo che il caso semplice è devo andare avanti finché ci sono caratteri controllando che tutti questi siano minuscoli e fermarmi o quando finisce la stringa perché prima o poi finirà oppure quando trovo un carattere di spaziatura o di punteggiatura allora in quel caso tutti i caratteri che ho visto in mezzo fanno parte del mio nome ok e se trovo un nome mettiamo un nome sensato come lo trattiamo questo allora c'è di sicuro la variante cattiva dicendo no non è un nome e quindi tu potrai scoprire che è un nome solo alla fine quando vedi il carattere dopo oppure qualcuno dice senti questo è un nome e finisce qui il nome non c'entra cioè se quel nome lo intendiamo come parte del nome questo non è un nome proprio se quel nome lo intendiamo come un carattere come fosse una punteggiatura un carattere che non c'entra niente quindi già fuori dalla parola allora vuol dire che la parola è finita lì e il nome non è più parte della parola se riesco a convincervi che il nome non è più parte della parola semplifichiamo il lavoro però potrebbe essere soprattutto se io faccio poi così dove ci metto una lettera maiuscola che è più difficile dire che che la parola finisce alla O di Paolo e quindi quello è il nome proprio Paolo e la Z non c'entra niente fatico da anche convincere me stesso a prendere la versione semplificata dimmi ho capito ma questo è barare tu stai cambiando il problema stai dicendo io trovo i nickname e non i nomi propri e poi mi ha chiesto scusami questo sito qua è diverso le altre minuscole tu dici no ma io anziché svolgere l'esercizio corrego il testo faccio la soluzione che voglio e poi ci scrivo no chiaramente stiamo scherzando però no purtroppo dobbiamo dobbiamo scegliere cosa fare in questi casi qui attenzione questo può anche continuare con altre lettere minuscole allora come nickname sarebbe fighissimo però avrei detto una sequenza qualunque di lettere maiuscole minuscole che iniziano con la lettera maiuscola che è un'altra cosa però allora questo qui decidiamolo ditemelo voi è un nome proprio che finisce con Paolo e Erzin non c'entra niente oppure non è un nome proprio non lo è non lo è non lo è ok non lo è quindi noi dobbiamo implementare una regola per cui tutti i caratteri successivi all'iesimo ho deciso voi di farlo più complicato tutti i caratteri successivi all'iesimo devono essere lettere minuscole e il primo carattere che non è una lettera maiuscola deve tassativamente essere uno spazio o un simbolo di punteggiatura non può essere una cifra non può essere una lettera maiuscola chi è che firma? che non cambiamo più idea? quindi allora adesso dobbiamo verificare che tutti i caratteri successivi siano minuscoli ed il carattere ancora successivo non so come dire in italiano scusatemi ma poi con gli indici viene meglio sia tassativamente il primo carattere non minuscolo così siamo più precisi e il primo carattere sia tassativamente uno spazio o un simbolo di punteggiatura ok? altrimenti non è una parola non è un nome proprio secondo le regole che abbiamo analizzato l'abbiamo studiato allora qui non ce la caviamo con un if perché non vado a verificare il carattere i più uno perché ho scritto tutti ah no manca ancora un pezzo deve esserci almeno uno c'è un altro pezzo perché abbiamo detto a spazio non è un nome quindi devo esserci almeno una lettera minuscola può essercene più di una e quando finiscono le minuscole deve esserci un spazio diciamo così per far breve quindi l'ip più uno deve essere minuscolo deve esistere e essere minuscolo ah qui non ho scritto la parola dell'esistere ma è sottinteggio che quando parlo di qualche cosa devo prima verificare che esista no? tra l'altro in senso inverso nel senso che se non esiste il carattere successivo c'è la lettera maiuscola e alla fine della stringa quella non è una parola se non esiste invece il carattere primo carattere non minuscolo non esiste perché i caratteri minuscoli arrivano fino alla fine della stringa e poi finisce la stringa allora va bene quindi in un caso se non esiste il prossimo carattere il primo minuscolo non va bene ma se non esiste il secondo dopo il primo minuscolo il secondo va bene ci incasina ovviamente un pochino il ragionamento ok allora dicevo non ci basta controllare la posizione di più uno perché bisognerà poi andare a vedere la di più due poi eventualmente la di più tre poi la di più quattro fino a quando fino a quando devo andare a vedere fino a quando non incontro un carattere che non sia minuscolo oppure la fine della stringa a quel punto quando trovo il primo carattere che non è minuscolo lo guardo in faccia e gli dico tu sai maiuscolo e lettera male spazio e punteggiatura bene fine stringa bene detto così sembra facile però siamo arrivati con fatica perché non è banale scomporre i vari passaggi quindi alla fine cosa faccio cerco in avanti da i più uno in poi il primo carattere non minuscolo oh finalmente ho scritto una frase che capisco cioè so come implementarla sta roba qua no? parto da i più uno vado avanti tan 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 condizione carattere è minuscolo non è minuscolo cioè finché è minuscolo vado avanti ma un tranquillo while tranquillo while che cicla su un indice di una posizione del carattere futuro che sto guardando occhio che non posso usare l'indice i per governare questo ciclo while perché i è già qua sta già governando questo ciclo qua quindi dentro non si tocca se no vado a sputtanare scusate il termine tecnico ma rende l'idea l'iterazione esterna ok? quindi lo chiamo j un indice che parte il primo carattere che deve controllare è i più uno e vado avanti finché finché frase di j è minuscola sì poi ci devo aggiungere che esiste lo so vado avanti carattere successivo è minuscolo ok vado ancora avanti è minuscolo ancora vado ancora avanti è minuscolo ancora vado ancora avanti quando mi fermo vuol dire che j sta puntando a un carattere che non è più minuscolo un invariante logico che quando esco da un while la condizione del while è falsa se no non sarei uscito quindi alla riga 36 quella condizione di slower è sicuramente falsa poi devo però aggiungerci la fine stringa vabbè la fine stringa come me ne accorgo beh devo limitare devo fare in modo che j non arrivi mai a essere maggiore della lunghezza della stringa qui devo mettere in più j minore di lang di frase and quindi io mi fermo a questo punto quando arrivo alla fine della stringa se nel frattempo ho trovato tutte le tre minuscole oppure mi fermo prima della fine della stringa se ho trovato una lettera non minuscola quindi alla riga 36 abbiamo una verità e questa verità è che o j è uguale all'en di frase e quindi erano tutte minuscole fino alla fine oppure j sta puntando a un carattere che non è minuscolo e quindi andremo a vedere com'è ok quindi la verità scriviamola j è uguale all'en quindi ho solo trovato minuscole fino in fondo oppure frase di j non è minuscola esiste e non è minuscola e quindi può essere ok se spazio ko se lettera numero passio punteggiatura applichiamo la regola che ci siamo detti no? quindi nel primo caso invece è sempre ok e beh andiamo a verificare questa roba qua la condizione buona è quella in cui sia alla fine la stringa o ho trovato uno spazio o punteggiatura quindi guarda caso è la stessa condizione di prima beh cambiando questo no? questo pezzo qui sì spazio o punteggiatura lo otteniamo tale quale dove al posto di i-1 ci metteremo j quindi se j uguale l'en di frase bene perché sono arrivato al fondo con tutte minuscole oppure se la posizione j che esiste perché non sono arrivato alla fine della stringa è uno spazio o una punteggiatura allora in questo caso sono a posto dimmi dimmi manca ancora un pezzo sì no? sì allora in questo caso che cos'ho? cosa posso dire? qual è la verità che ho qua? la verità che ho a questo punto avendo fatto tutti questi controlli è che ho trovato un nome proprio che va dal carattere i al carattere al carattere i più 1 i più 7 j meno 4 j meno 1 perché j già è quello fuori già quello diverso è quello che non è più minuscolo se c'è o magari non ce n'è anche ok? quindi alla posizione i avevamo la lettera maiuscola i più 1 i più 2 i più 3 tante lettere minuscole j non più lettera minuscola poi se quella non lettera minuscola era una cosa buona siamo arrivati in questa if e quindi possiamo dire che la parola è composta da tutti i caratteri che sono tra la posizione i compresa e la posizione j esclusa o j meno 1 compresa dipende come volete dire e quindi mi verrebbe da stampare frase di i j da i compreso a j escluso poi lui ci ha fatto notare ancora un dettaglio dicendo sì però se fosse una lettera maiuscola isolata come aveva fatto prima tu quando la vedi là fai il ciclo while e ti fermi a questo spazio però ciò che hai in realtà è solo là non hai a seguita dalla minuscola cioè la regola ci siamo dimenticati in questo che qua c'era scritto almeno uno già mi è dimenticato di scriverlo prima adesso mi sono dimenticato di controllarlo vabbè aggiungiamolo perché cosa capita se c'è una lettera con subito uno spazio cosa salta fuori ma non esplode nulla io metto j uguale i più uno e quindi j punterà allo spazio j migliori di frasi sì perché sono puntato allo spazio frase di j slower no no perché uno spazio non è una lettera minuscola quindi questa condizione del while è falsa come dico io è già falsa in partenza prima ancora di fare qualunque iterazione è già falsa e quindi non faccio nessuna iterazione e quindi arriverò qua sotto a questa if a questa verità che continua a essere vera ma j è uguale i più uno j è uguale i più uno vuol dire che il range i j in realtà è una lettera sola quindi devo essere sicuro che j sia andato avanti almeno di un passo quindi devo controllare ancora che j sia maggiore di più uno dimmi j uguale? j uguale a Andy frasi perché è una delle due condizioni per cui sono uscito dal ciclo while cioè io usco dal ciclo while quando arrivo all'ultimo carattere come faccio ad accorgermi? allora qui se j diventa uguale alla lunghezza della frasi non posso più andare a usarla come indice mi devo fermare poi alla fine dico guarda se per caso qui sto andando a interrogare il motivo per cui sono uscito se sono uscito dal ciclo while perché è finita la stringa? bene oppure se sono uscito dal ciclo while per un altro motivo quindi per gli slower vado a verificare ok? altrimenti di nuovo se io non avessi messo questa parte qua stare rischiando perché se j è arrivato alla fine della stringa quindi l'errore perché sto cercando di leggere un carattere che non esiste più quando j è uguale a len il carattere non esiste più perché j arriva fino a len meno uno l'indice arriva fino alla lunghezza meno uno ok? poi ci può essere il caso in cui arrivare fino in fondo mi da un no e quindi dovrei mettere un diverso qua oppure invece in caso in cui mi da un ok allora metto l'uguale però devo sempre considerarlo come caso particolare tutte le volte che ho un'interazione un ciclo tutte le volte che ho una collezione un contenitore come una stringa ho sempre il caso normale c'è a metà e poi i casi sfigati che sono il primo e l'ultimo che bisogna sempre pensarli a parte e gestirli a parte allora per evitare che venga riconosciuto perché adesso viene riconosciuto questo bisogna mettere ancora un'altra condizione quindi qua è vera questa verità qua purché i sia maggiore di j sia maggiore di più 1 quindi solamente se j è maggiore di più 1 cioè si è spostato da dove era partito allora sta roba qua da errori perché ha fatto degli import che non c'entrano niente mi ha stampato guarda caso Piero e Antonio dove tra l'altro Antonio era proprio la fine della stringa quindi tutti i nostri ragionamenti sulla fine stringa sono funzionati bene se io metto una P di pescare però al posto di pescare metto una Z e lui ha trovato la P ha trovato la Z queste sono le print che avevamo fatto cent'anni fa quando cercavamo lettere maiuscole ma non me lo stampa se la Z fosse minuscola me lo troverebbe se al posto della Z c'è un 9 non me lo trova se al posto della Z c'è un punto esclamativo lo trova se oggi lo scrivo con la maiuscola lo trova purché non abbia poi una lettera maiuscola dopo allora non lo trova più sono tanti casi possibili ah poi la lettera maiuscola spuria fatemi togliere quella print prima che ci dà solo fastidio pensavamo di essere a buon punto quando mi ho stampato questa la lettera maiuscola spuria non me la trovo ovviamente ma neanche se è doppia è una cosa che è questa qui AZZ sarebbe carino perché c'è una maiuscola seguita da minuscole ma in realtà quella precedente non è maiuscola quindi non me la trova di casi malati possiamo inventare tanti ma per fortuna sembra che funzioni una cosa che non ho provato è questa questa dovrebbe trovarla perché contemporaneamente la prima è l'ultima quindi non è ragionata sul caso iniziale sul caso finale ma insieme me la trovate se fosse minuscola non me la dovrebbe trovare infatti non mi stampa niente e se la O fosse maiuscola ok va allora qui non siamo partiti dicendo devo fare un doppio lupo cioè non lo riconoscevamo neanche all'inizio sembrava una cosa facile tipo trovare parole è venuto semplicemente perché a un certo punto abbiamo detto questo dobbiamo verificare una certa cosa e per verificare questa cosa ci siamo dovuti aprire una parentesi mentale spendere 20 minuti a ragionarci e poi il risultato è stato un lupo che avesse quella condizione finale e quell'incremento e quell'interpretazione del risultato alla fine del ciclo se io me lo dovessi visualizzare questa stringa immaginatemi questa stringa qua davanti o la I che va avanti in una posizione per volta a un certo punto la I trova una maiuscola allora parte suo figlio J che va avanti un pochino e vede cosa trova nel frattempo I rimane fermo in attesa tranquillo poi quando I J si ferma per uno dei motivi che abbiamo visto quindi trova la fine della stringa trova una lettera minuscola non minuscola allora va a vedere cosa è successo tra I e J e me stampa questo pezzo qua poi I sparisce cioè J sparisce e I va avanti un pezzo per volta trova un'altra maiuscola facciamo nascere un altro J che va avanti vado a vedere il risultato se devo stampare stampo se non devo stampare un stampo lasciamo perdere finito il day e vado avanti con il quindi ho un indice che va avanti tranquillo e un altro che ogni tanto fa dei lanci in avanti quando c'è qualcosa da controllare e qua è la logica del doppio del doppio loop io il ciclo esterno l'ho implementato con un for range sulla lunghezza della stringa perché so benissimo che devo guardare una per una tutte le lettere della stringa dalla prima all'ultima senza eccezioni senza salti senza scorciatoie senza allungamenti buong so già esattamente a priori quante e quali sono le iterazioni che devo fare il secondo ciclo il secondo ciclo non lo potevo fare come un for perché il for mi richiederebbe di identificare un contenitore di stringa o di indici delle quali andrò a visitare tutti gli elementi ma io non so se ne dovrò visitare due o 17 di elementi perché dipende da quante lettere minuscole ci saranno dopo e finché non le cerco non so quante saranno quindi questo è necessariamente un ciclo while perché la condizione di uscita diciamo così dinamica non mi permette di prevedere quante iterazioni farò potrei non farne nessuna potrei farne una potrei farne dieci non lo posso sapere prima allora quando capita una cosa di questo genere in cui inizia un'iterazione tipicamente di ricerca di qualcosa vado a vedere dove lo trovo e non sapendo quando lo troverò non posso mai usare un ciclo for l'automatismo del ciclo for funziona se devo incrementare di uno fino a un certo limite massimo punto e basta che è forse la maggior parte dei casi ma non la totalità dei casi quindi sicuramente è più compatto più comodo usare il ciclo for dove serve dove invece ho un ragionamento più complesso che mi serve per fermare l'iterazione vabbè mi faccio il while che tanto so gestire benissimo tanto questo è un while se vogliamo chiamiamolo de genere qual è il corpo di ciclo while non c'è il corpo c'è il corpo semplicemente la gestione dell'indice ma perché l'unica funzione è di contare quante volte questa condizione è vera va bene uno potrebbe mettere qua dentro c uguale c più 1 per contare quante volte quanti caratteri sto andando avanti e alla fine mi direbbe guarda ho trovato 7 lettere minuscole ovviamente se metto c uguale c più 1 devo mettere c uguale 0 qua questo quante lettere minuscole ho trovato in realtà noi non lo stiamo calcolando lo potremmo calcolare non lo stiamo calcolando perché in realtà è già j meno i il numero di lettere che ho trovato j meno i meno 1 perché la prima è la maiuscola va bene se ci servisse lo possiamo ricavare dal j l'ultimo commento che ho su questo esercizio è il male che ci siamo fatti necessariamente per gestire il caso primo carattere della stringa e ultimo carattere della stringa perché tutte le volte che mi hai detto i meno 1 e cacchio magari i meno 1 non esiste tutte le volte che mi hai detto i più 1 e magari i più 1 non esiste allora devo andare a controllare se i è uguale all'en di stringa oppure se i è uguale a 0 allora ok per forza lo dobbiamo fare oppure alternativa per evitare di gestire questi casi particolari viechissimo trucco ci schiaffo uno spazio davanti uno spazio dietro che vuoi è il mio programma ci metto uno spazio davanti uno spazio dietro così sono sicuro che prima di ogni lettera maiuscola di sicuro c'è qualcosa al massimo c'è quello spazio lì e dopo ogni lettera minuscola di sicuro c'è qualcosa al massimo c'è quello spazio lì se mi fosse venuto in mente avrei semplificato parecchio tutti gli if che vengono dopo non il ragionamento il ragionamento sarebbe stato uguale ok quindi a volte funziona uguale però se io garantissi uno dice se tu avessi la garanzia che la lettera maiuscola non è la prima ok se questa garanzia non me la dai me la faccio io poi per carità ci saranno poi i dettagli nel senso che se dico guarda che la lettera maiuscola è al carattere 17 e vabbè così diventerà al carattere 18 perché ce n'ho messo uno davanti ma vabbè poi lo correggo faccio un meno uno chi se prega quindi a volte un po' di ragionamento supplementare per chiedersi ma i dati che sto elaborando sono nella forma più comoda per me o posso magari questa domanda ce la siamo fatta spesso negli esercizi precedenti dicendo ma stava qua la uso come stringa o la uso come intero e a volte passavamo da uno all'altro a seconda della comodità dell'operazione che volessimo fare ma anche rimanendo stringa magari la addomestico ma la facevamo già facevamo le stringhe punto lower mettiamo tutto in minuscolo così non ci preoccupiamo delle differenze imparando a fare cose un pochino più complicate saltano fuori idee anche più diciamo così non dico complicate ma diverse di adattare i dati per semplificare alcune ipotesi che tu fai nell'algoritmo successivo quindi in questo caso avremmo tolto questo u uguale a zero avremmo tolto questo j minore di lenfrase quest'altro j minore di lenfrase in realtà non è che avremmo guadagnato un'ora perché lo spesso del ragionamento è stato questo qui sugli slower sull'incremento alla fine quindi come trucco a volte no ci si può pensare di addomesticare un po' l'impu io ho scritto un programma di 40 righe di cui probabilmente 35 sono commenti ok alla fine se andate a vederlo ripulito sono veramente 5 o 6 righe di codice molto molto dense ci sono costate un'ora di ragionamento insieme ma è così è normale che sia così se io togliessi i commenti se non avessimo fatto insieme questo ragionamento se prendessi questo codice lo dessimo a qualcuno dicendo cosa fai questo programma spiegami come funziona sarà dura ricostruire esattamente il ragionamento che abbiamo fatto perché lì c'è un minore perché lì c'è un minore uguale perché c'è la puntuation abbiamo documentato un po' nei commenti ma il ragionamento ce l'abbiamo solo qua che l'abbiamo condiviso questo è uno dei motivi per cui le soluzioni degli esercizi noi ve li diamo ma non servono a niente perché la soluzione degli esercizi è ciò che rimane essiccato gli ofilizzato dopo che hai estratto tutto il ragionamento che hai fatto prima ricostituire gli ofilizzato non si può perché si tratta di ragionamenti ok ok direi che oggi vi ho strizzato abbastanza i cervelli l'altro esercizio che avevo proposto ma era più un passatempo che altro banalissimo provate a farvelo ricordate il programma della briscola che abbiamo fatto due settimane fa allora adesso che abbiamo i cicli quello che vi suggerisco di fare è dire ok tu fai inserire dall'utente vabbè la carta di briscola è la prima carta poi genera esostivamente tutte le carte del mazzo e per ciascuna di queste dimmi se vincerebbe o non vincerebbe cioè si tratta di prendere quel blocco di codici che già avevamo sulle due carte e ripeterlo più volte dove la parte nuova diciamo così è generare tutte le carte possibili che avendo l'elenco dei semi l'elenco dei valori di nuovo si stiamo aggiungendo quattro righe in tutto quindi questo fatelo come divertimento va bene questa sera e domani laboratorio 5 buona giornata grazie a tutti grazie a tutti